la posizione di Franchi, scambia per la centralmente, il corridoio sbagliato, Edson prova ad andare via eccolo qui, Edson c'è sull'esterno, Vera, Vera con sinistra, deviazione, palo ancora, gol De Melo porta in vantaggio il Real Molfetta, 1-0 gol quindi che apre le marcature in questo momento Real Molfetta che comunque passa anche Vera, lo trova infatti punto dice proprio, attenzione, conclusione, ancora Walter Vera, 2-0 buca subito la difesa dal fratello Icambise, dopo soltanto un minuto Real si porta sul doppio vantaggio, abbraccio tra Walter Vera e Edson a lungo in settimana si è discusso, settimana particolare, cruciale arriva anche Idaimia, ha fatto tanto pensare a una promozione importante Vitale costretto a regalare palla per il posizionamento sbagliato dei suoi uomini poi se la prende anche un po' Imi con gli altri perché la posizione era molto errata manca un po' il riferimento in avanti, Edson sta facendo un po' di sacrificio all'indietro conclusione, attenzione Vitale che cerca il tuffo, forse devia ed è quindi calcio d'angolo, è riuscito a toccare forse con il Polpastrelli chiede scusa per una posizione forse un po' leggera da parte sua Pedone, e sbaglia, Franchi può partire, Franchi contro Vitale è bravo Vitale, riesce con tranquillità, direi di no bello intervento di Vitale, rimane in piedi fino all'ultimo di Benedetto, Ambrosini è pronto a destra, di Benedetto prova a sfondare un'ingenuità incredibile, due contro tre, Pedone rischia il fallo conclusione, traversa, deviazione, ancora ci prova Pereira ora i fratelli Cambise con lungo rilancio, deviazione e qui Vitale tocca in caduta, riescendo a deviare in calcio d'angolo andare con il sinistro, verai mi col tacco il palo bella idea per lui, realizzazione molto simile a quella di lungo in avanti, il pallone, subito preda del portiere ancora la ripartenza dei fratelli Cambise lancia tutto campo, conclusione da parte di Leone molto larga, 11 secondi partire, conclusione, Vitale, gol poi da parte della squadra ospite che riesce a siglare la rete del 2 a 1 quindi accorcia le distanze in questo momento proprio Andarelli, De Melo, deviazione, può ripartire quindi i fratelli Cambise Ducarmo Tiago, filtra bene, conclusione, Vitale evita davvero il peggio Vitale, rilancio per Cassanelli il tocco per Manfroy che prova a far fuori l'avversario conclusione, palo pieno conclusione davvero di estrema potenza per lui Cassanelli, difficoltà, mette fuori rimesso laterale squadra molfettese che ha bisogno di un gol come del resto anche quella degli ospiti si fa vedere Ambrosini bella la giocata per De Melo conclusione con il suo destro la buona parata poi De Melo, Manfroy passaggio davvero al fil di recupero Manfroy, prova a girarsi la Veronica sull'avversario poi va all'interno perde palla sui suoi passi 10, fantozza la battuta all'interno c'è Ducarmo Tiago che va sul palo grande tensione per questo calcio di punizione 54 secondi e 9 decimi messo il palone sul laterale ancora Walter Vera devia bene poi prova a metterci la parola fine pedone eccolo qui rimesso laterale reale c'è da aspettarselo questo ogni millimetro può essere determinante Ducarmo Tiago pallone buono per Di Terlizzi conclusione alza sopra l'attraverso 6 secondi al termine soli 6 secondi al termine di questa gara Vitale alza la traiettoria recuperando quanto più secondi possibile in area 2 secondi 1 e finisce qui il secondo tempo Real Molfetta conquista questi tre punti pesanti sudati come non mai contro una squadra che probabilmente sulla carta doveva essere più alla portata di questo Real una partita difficilissima complicata terminata con un punteggio che poteva essere benissimo quello anche dal 2 pari visto